Allora mister, due squadre che per certi versi dicevo potevano assomigliarsi, soprattutto il loro stato d'animo poteva assomigliarsi, molti alti e bassi per entrambi le squadre, qualche rumors di troppo probabilmente, il dato di fatto è che questo pareggio probabilmente rimanda ad un'ulteriore prova del 9 entrambe le squadre, quindi anche la Salernitana. La Salernitana oggi aveva bisogno di una vittoria, in maniera paziente, in maniera equilibrata c'era quasi arrivata, anche se c'è il merito dell'avversario che ha fatto la sua onesta partita e il risultato di parità può considerarsi giusto, però quando sei in vantaggio e mancano 4 minuti al tempo di recupero e a quel punto ne mancava uno, bisogna essere più mestieranti, gestire la palla e non dare l'opportunità all'avversario addirittura di arrivare in area. Quindi noi siamo molto rammaricati, guardiamo in casa nostra, era una vittoria importantissima ma sappiamo anche che il Perugia era una buona condizione perché vincere a tempo scaduto con l'ascoli e pareggiare il derby sempre sul filo di lana vuol dire che comunque ci credi e ha aggiustato morale e classifica. Noi dobbiamo andare avanti con pazienza e ricercare tra di noi l'entusiasmo per trovare una vittoria che ci manca da troppo tempo e che avremmo meritato da diverse volte. La Sanitana manca la vittoria e in troppi momenti l'avremmo meritata, l'avremmo intanto voluta e cercata anche con un buon equilibrio, quindi la vittoria manca. Invece per quel che riguarda l'avversario ha ritenuto di rinforzare le corsie esterne, il motivo io non lo so perché devo pensare alla mia di squadra. Grazie, buona serata. Grazie.